buongiorno a tutti ieri è uscita la beta 7 di da vinci resolve 17 c'è qualche novità interessante così ho deciso di fare questo breve video per riassumere quelle principali modo tale che vediamo un po cosa è cambiato nell'installare la beta 7 allora quando aprite da vinci resolve e c'è un aggiornamento disponibile se avete attivato sulle preferenze quindi system general la check automatically check for updates vedrete un box che vi annuncia l'uscita della nuova release altrimenti potete andare su check for updates lui fa l'analisi se c'è la nuova versione vi fa vedere quale versione disponibile e vi dà la possibilità di fare il download direttamente tramite il link presente sul sito black magic vado a cliccare su download ecco che lui comincerà il download della tua versione disponibile se hai la versione studio scaricherà la versione studio se la versione free scaricherà la versione free quindi adesso ci prendiamo un attimo per scaricarla e la installiamo partiamo dalla color page come potete vedere qui abbiamo i nodi che sono numerati in maniera progressiva seguendo la pipeline cioè dall'input fino all'output adesso se inserisco un nodo a cavallo tra il nodo 1 e il nodo 2 quindi un nodo seriale questo nodo diventa il nodo 2 e questi qua diventano il nodo 3 e il nodo 4 adesso posso cambiare la modalità di gestione della numerazione dei nodi invece di seguire il progressivo sulla pipeline seguo il progressivo in base all'ordine di inserimento vado su preferenze quindi user color e vado a mettere il check su preserve node numbers when adding nodes attivo questo faccio save e vedete che adesso la numerazione del nodo che ho appena inserito segue il progressivo di inserimento quindi questo diventa il nodo 4 mentre questi due qua mantengono la numerazione precedente se voglio ritornare alla modalità iniziale ritorno sulle preferenze vado a togliere il check e in automatico viene riaggiornata la numerazione della node editor altra miglioria introdotta all'interno della color page è che io posso rapidamente copiare un intero grade quindi dei nodi e sizing semplicemente con dei copia e incolla cioè seleziono questa clip faccio ctrl command c vado su questa clip che ha solamente questo nodo se faccio un ctrl command v è raccopiato tutto il grade che vi è stato fatto su quest'altra clip quindi velocemente con un ctrl command c e un ctrl command v ad esempio qui non ci sono gli skin tones posso semplicemente eliminare questo nodo passiamo alla deliver page perché qui hanno introdotto una cosa davvero importante ad esempio qui sono sulla edit in una composizione di fusion dove ho un canale alpha cioè una trasparenza ai lati dell'oggetto in primo piano vado sulla deliver se mi voglio esportare anche le informazioni di trasparenza adesso posso scegliere uno dei formati compatibili ad esempio posso scegliere un progress 444 con quindi senza sottocampionamento del colore oppure se sei in windows come nel mio caso vado a prendere una dnx hr vado a scegliere ad esempio un 444 a 12 bit oppure a 10 bit e vado a scegliere export alpha quindi in questo caso io esporterò le informazioni sulla trasparenza e quindi potrò importare il mio video all'interno di un altro progetto mantenendo il ritaglio delle aree di trasparenza andiamo su fairlight e qui finalmente hanno abilitato il quick export quindi io posso esportare direttamente dalla fairlight page rapidamente con l'esportazione rapida quindi se fairlight è l'ultimo passo di tutto il tuo flusso puoi tranquillamente andare in esportazione qui con il tuo preset già creato e quindi esportare direttamente in base alle impostazioni che hai inserito nel quick export sono state introdotte anche altre piccole migliorie all'interno della beta 7 ti riporto l'elenco dettagliato e anche tutti i bug che sono stati corretti e noi ci vediamo per il prossimo tutorial all'interno del canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti